Ciao a tutti, mi chiamo Josef Mossali, sono un pianista e stasera suonerò con la pianista Giulia Limonda, con cui formiamo un duo, ormai già da due anni e mezzo, quindi è una collaborazione oramai più che rodata. È la prima volta qui a Bologna, per cui sono veramente contentissimo di suonare qui, nella Cognizia del Bologna Festival, nella Basilica di Santo Stefano. Suoneremo un programma molto particolare perché i tre quarti del programma sono incentrati sulla musica tardoromantica, quindi ultima parte dell'Ottocento, con i quattro pezzi romantici di Bojack, la seconda sonata di Brahms e la terza sonata di Grieg. E poi cambieremo verso la fine con la Zigan di Ravel, per mettere in luce più questa visione francese della musica zigana, della musica ungherese, quindi un accento su quella che è la musica popolare. Grazie.